Vorremmo ringraziarle per l'opportunità che ci ha dato di farle conoscere questo meraviglioso regno Il piacere è tutto mio E poi dal momento che come lei non siamo del posto Chi meglio di noi può mostrarle quanto questo luogo stupendo possa essere accogliente 3, 4, 5, 6, grande il posto in cui tu sei 7, 5, 4, 1, non lo supera nessuno 6, 5, 4, 3, scoprirai che va per te 4, 3, 2, 1, l'inverno è il numero uno Fantastiche!